Noi non ci rendiamo conto che parliamo ogni giorno soprattutto dei grandi problemi che riguardano i rapporti tra noi, tra 8 miliardi di persone e trattiamo troppo poco i problemi che riguardano il rapporto dell'umanità con i processi fisici che dipendono invece dalle grandi leggi cosmiche che funzionano da miliardi di anni. Questo rischia di essere un errore prospettico fondamentale perché mentre i problemi tra di noi possono essere sempre regolati e negoziati, basta volerlo, anche le guerre che oggi sono in corso potrebbero essere fermate in mezz'ora se volessimo, incontrandoci tutti insieme e stabilendo che è ora di finirla. Invece con la termodinamica, con la fisica non si negozia. Una volta che usciamo da certi parametri purtroppo subiamo le conseguenze e talora per decine di migliaia di anni una volta che siamo usciti da un certo stato di equilibrio che ci ha consentito finora di arrivare fin qui.